La stessa scena vista e rivista milioni di volte. Cambia il posto, l'ora, il giorno e l'anno. Cambia il nome, l'età, il colore della pelle e la dinamica dell'incidente. E quindi il modo di morire. E allora? Il film è sempre lo stesso. Schiantati al suolo, schiacciati da un carico, folgorati, asfissiati in un cunicolo o contenitore, investiti o schiacciati da una macchina. E quest'anno, con il covid, si muore anche per aiutare gli altri. No, non è lo stesso film. La morte, seppur simile, non è mai la stessa. Ogni morto è storia a sé e deve avere la sua dignità. Ciò che accade dovrebbe insegnare. Ciò che accade dovrebbe educare, affinché non succeda più. E invece? In Campania, anche nel 2020, i morti sul lavoro sono stati 76. Protocolli sicurezza, leggi e decreti. Non possono nulla se non c'è rispetto per la vita altrui. Una triste curiosità. Si muore di più di lunedì, dicono le statistiche. In quel giorno che dovrebbe essere l'inizio della settimana e invece per tanti alla fine. Quante vite spezzate. Quanti sogni, speranze e felicità infrante. Il mondo ci chiede cambiamento. Ma il mondo non cambia se non cambiamo noi.